buonasera mario è terminata un'altra giornata di lavoro qui sul campo di roccaraso alle mie spalle fino a poco fa c'era ancora il direttore sportivo del bari ciro polito perché perché calciomercato è una parola chiave nella giornata di oggi il bari ha di fatto definito l'arrivo di un attaccante di chi si tratta di damir seter valencia per tutti conosciuto come damir seter attaccante classe 1997 nell'ultima stagione era a cagliari anche se ha giocato davvero pochissimo per lui un infortunio almenisco nello scorso gennaio operazione poi ripartenza e la ripartenza di seter sarà proprio da bari attaccante che ha avuto già esperienze in serie b in particolare con il pescare con il chievo attaccante molto forte fisicamente supera il metro e 90 esplosività atletica si trova meglio in un attacco a due non è un centravanti classico è un giocatore di movimento a dispetto della importante stazza damir seter ha sostenuto nel pomeriggio le visite mediche a roma a villa stewart e raggiungerà roccaraso già probabilmente in serata per lui è pronto un contratto di un anno con opzione di prolungamento di altri due legata a cosa a bonus personali quindi bonus personali e non di squadra un modo anche per tastare sul campo il rendimento di un giocatore che l'abbiamo detto nello scorso anno praticamente è sceso molto molto poco in campo possiamo dire che un acquisto nel quale polito crede molto così come mignani c'erano altri 45 club su di lui tra serie a e anche calcio spagnolo alla fine seter ha voluto fortemente il bari e diventerà quindi un nuovo giocatore biancorosso nel pomeriggio grande attenzione riservata alla tattica mignani ha lavorato sempre su un principio quello del 4 3 1 2 partitella anche a campo ridotto grande agonismo grande intensità tante belle giocate in particolare protagonisti da una parte botta e dall'altra cristian galano allenamento invece al di là della partitella ad esempio tanta corsa per simeri e scavone due dei nomi in uscita possiamo raccontarvi che su simone simeri c'è una trattativa avviata in questo momento con il monopoli cessione che si andrebbe però a realizzare con la formula del prestito anche per scavone ci sono interessamenti anche per daniele paponi che è cercato l'attaccante sia dal rimini che dal gubbio partiranno presto anche due baby a metà i classe 2002 montelegrino attaccante è diretto a monopoli su mane invece difensore del 2003 ci sono in questo momento limolese e la lucchese più di altri club che avevano chiesto informazioni in passato come ad esempio la re canatese il mercato del bari non si ferma certo qui si cercherà un altro attaccante di spessore questo è il profilo sul quale lavora polito tra i nomi fatti oltre a simi resta viva la pista gitkier del monza e presto potrebbe arrivare anche un rinforzo a centrocampo si tratta di michael foloruscio che a bari ha già giocato stagione 2019 2020 centrocampista passato poi da reggina e pordenone ha terminato la prima fase di ritiro con il napoli che club proprietario del cartellino e adesso potrebbe davvero partire lasciare napoli e arrivare a bari con la formula del prestito insomma un mercoledì ricco di notizie domani si torna in campo per gli allenamenti ovviamente nel corso poi di passione ritiro faremo tutto il punto sulle trattative avremo anche un focus proprio sulla figura sulla carriera di seter per ora è tutto da Roccaraso ciao studio